Benvenuti nel mondo degli orologi Wittnauer. Wittnauer è un marchio di orologi svizzero con una lunga storia che risale alla fine del XIX secolo. Fondata da Albert Wittnauer, un imprenditore svizzero che ha immigrato negli Stati Uniti nel 1872, la Wittnauer Watch Company ha iniziato la produzione di orologi di alta qualità con movimenti svizzeri a New York City nel 1885. Da allora, Wittnauer si è affermata come uno dei principali produttori di orologi in America. Negli anni 70, Wittnauer ha lanciato una serie di orologi da polso di successo, tra cui il popolare modello 2000. Negli anni, il marchio Wittnauer è stato acquisito da diverse società di orologi, tra cui la Longines. Tuttavia, la qualità e la precisione che hanno reso famoso Wittnauer sono rimaste immutate. Oggi, gli orologi Wittnauer sono conosciuti per la loro precisione e qualità, con molti modelli che presentano movimenti svizzeri di alta gamma e design eleganti. Inoltre, Wittnauer offre una vasta gamma di orologi per soddisfare tutti i gusti, dalla collezione sportiva alla collezione classica. La collezione sportiva Wittnauer è ideale per gli amanti delle attività all'aria aperta e degli sport estremi. I modelli sportivi Wittnauer sono realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, come il titanio e il policarbonato, e offrono prestazioni eccezionali. Tra i modelli della collezione sportiva Wittnauer troviamo il Wittnauer Professional, un orologio subacqueo di alta gamma che offre una resistenza all'acqua fino a 300 metri. Questo orologio è dotato di un movimento svizzero di precisione e di un design elegante e moderno. Inoltre, il Wittnauer Professional è dotato di una funzione di cronometraggio, che lo rende ideale per gli sportivi che vogliono misurare il tempo con precisione. Tra i modelli della collezione classica Wittnauer troviamo il Wittnauer Metropolitan, un orologio da uomo elegante e raffinato. Grazie. Grazie.